in questo filmato imparerete come importare i dati dei soci in club desk è possibile accedere all'amministrazione dei membri qui in alto a sinistra a questo punto selezionare la funzione importa e il file dei membri se i dati sono un elenco excel salvarli prima in formato csv l'importazione intelligente di club desk esamina i titoli delle colonne del file e li assegna automaticamente ai campi appropriati in club desk ora controllate i campi e se necessario modificate l'assegnazione ad esempio se al posto del numero di telefono privato non è stato proposto alcun campo adatto se lo si desidera si possono anche esaminare i dati di altri membri per verificare che tutto si è impostato correttamente particolarmente utile è la possibilità di correggere direttamente gli errori che a volte compaiono nel database a causa di una mancata corrispondenza confermate ora che volete trasferire i dati a club desk ora avete importato con successo i vostri dati con pochi clic un altro suggerimento è possibile che la panoramica dei membri non mostri tutti i dati importati in questo caso fate clic sul menu delle colonne e attivate i campi mancanti i dati saranno completi con club desk avete sotto controllo l'amministrazione dei vostri soci tutti i dati